Sicuramente siamo in un buon momento, abbiamo vinto una partita molto importante in trasferta, a Scafati. Come hai detto tu, torneremo a essere al completo. Aspettavamo Justin che in queste due settimane ha lavorato forte per provare a rientrare, si è riuscito ad allenarsi bene, quindi bentornato nel gruppo. Arriva a Venezia, una squadra, una corazzata, una squadra costruita per vincere. Molto forti, molto fisici, una squadra molto lunga. Ci aspetta una partita dura, ci aspetta una partita, dobbiamo fare una partita solida, sicuramente essendo bravi a giocare con il nostro ritmo, con le nostre certezze e stare compatti nei momenti difficili che ci saranno all'interno della partita. Sappiamo che avremo una grandissima spinta del nostro pubblico, non vediamo l'ora che sia sabato alle 7 per vedere il palazzo bello infuocato, come piace a me personalmente, ma a tutta la squadra, quindi siamo pronti.